Sale ancora il livello di concentrazione di polveri sottili, il famigerato PM10 a Milano, dove da martedì sarà vietata anche la circolazione delle automobili più inquinanti e la temperatura nelle case dovrà essere abbassata di un grado. Dati preoccupanti che anche in altre città per la prima volta applicheranno le nuove limitazioni alla circolazione previste nell'accordo di Bacino Padano, sottoscritto da Lombardia, Piemonte, Beneto, Emilia-Romagna e dal Ministro dell'Ambiente. Ieri nel capoluogo Lombardo, per il quinto giorno consecutivo, è stata superata la soglia di attenzione dei 50 microgrammi al metro cubo. In particolare è quasi raddoppiato dai rilevamenti delle centraline Verziere in zona Piazza Fontana, Largo Augusto e Via Senato. Ha toccato gli 83 microgrammi al metro cubo in Via Pascal, zona città studi, valori alti anche nell'Interland e in altre città della regione, come Monza. Faccio un appello a tutti a non accendere i riscaldamenti, visto che la temperatura è prevista ancora alta e questa è la richiesta del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ai suoi concittadini, visti gli alti livelli di concentrazione di PM10 in città. Noi stiamo cercando di dare il buon esempio e, a parte nelle scuole, negli uffici comunali non accenderemo il riscaldamento. È chiaro che non sono misure risolutive, ci sono delle misure di lungo termine su cui bisogna lavorare. Il prossimo weekend Beppe Sala sarà a Parigi, con altre grandi città del mondo, per discutere di questo tema e vedere se si può fare qualche azione forte insieme.